come puoi lavorare con persone che hanno un disturbo alimentare e non vogliono stare in terapia? Un'idea di come poter fare ci viene da un bellissimo libro Brief Therapy and Eating Disorder di Barbara McFarland che pur essendo un po' datato ha ancora molte idee interessanti su come la terapia breve in particolare la terapia centrata sulla soluzione lavora con i disturbi alimentari e in particolar modo con quelli potremmo dire considerati più resistenti. Barbara McFarland fa riferimento ai quattro stadi del cambiamento identificati da Prociasca e Di Clemente che vanno a identificare diversi stage diversi stadi di azione della persona per il cambiamento per cambiare qualcosa nella propria vita in particolare a livello di terapia e in questa situazione specifica fa riferimento a quelle persone con disturbi alimentari che sono nella fase di precontemplazione. Ho fatto un video sui vari stadi del cambiamento identificati da Prociasca e Di Clemente quindi puoi andarli a cercare su YouTube. In particolare i due autori trovano quattro sottocategorie all'interno di questo stadio. La prima è quella dei riluttanti cioè persone che per mancanza di informazioni o di semplice inerzia non prendono neanche in considerazione la possibilità di un cambiamento. La seconda categoria è quella dei ribelli persone che sono ostili al cambiamento a chi vuole farle cambiare persone che pensano che chi dice loro che devono cambiare si stanno semplicemente facendo i fatti loro. La terza sottocategoria rappresentata dai rassegnati cioè persone che sono soverchiate dal problema e semplicemente non vedono una via d'uscita o una possibilità di cambiamento. La quarta sottocategoria è quella dei razionalizzanti potremmo dire persone che si sono date una costruzione una spiegazione molto puntuale di come funziona la loro situazione e non vogliono sentir parlare d'altro e non credono che altri possano capire com'è veramente la loro situazione. Secondo la McFarland i disturbi alimentari rientrano soprattutto nelle due categorie di mezzo quella dei ribelli cioè ostili al cambiamento e quella dei rassegnati cioè chi si sente soverchiato dal problema. Secondo l'autrice queste persone sono molto sulla difensiva in particolare persone con disturbo di anoressia hanno la paura di perdere il controllo e per questo stanno sulla difensiva mentre persone con disturbi più vicine a la bulimia o il binge eating hanno la paura di essere esposte e per questo stanno sulla difensiva. Sapello è molto importante perché Barbara McFarland ci ricorda di doverci sintonizzare con queste paure o quantomeno tenerle in considerazione nel momento in cui facciamo un lavoro con questo tipo di persone. Infatti una linea guida generale con cui inizia l'autrice è quella per cui il terapeuta quando si trova persone di fronte in questo stadio deve essere sensibile sintonizzato a queste sue paure. Deve considerare se e come le persone vogliono fare effettivamente una terapia e deve evitare di dare delle prescrizioni. Molto meglio limitarsi a dare delle informazioni di base. L'idea alla base di questo è che la persona non può essere costretta a fare terapia e il rischio è quella di perdere, di avere un drop out, di creare una relazione di lavoro che non va da nessuna parte e soprattutto impedisce la possibilità di poter ricevere nuovamente la persona in un secondo momento. Invece avere questo atteggiamento più aperto permette di lasciare la porta aperta per una terapia successiva nel momento in cui ci sarà uno stadio del cambiamento differente. L'autrice fa poi un parallelismo tra gli stadi del cambiamento di Prociasca, questo stadio in particolare della pre-contemplazione, e le tre relazioni della terapia solution focus che si instaurano tra il terapeuta e il cliente, quella di visitatore, quella di lamentatore e quella di cliente o acquirente. E in questo stadio le persone possono essere identificate in un tipo di relazione che è quella del visitatore. Anche su questo dovrei aver fatto dei video, quindi puoi andarteli a cercare sul mio canale YouTube. Una pre-contemplatrice che si trova in una relazione di visitatrice con il terapeuta ha generalmente quattro caratteristiche. È disimpegnata rispetto alla terapia, tanto che spesso viene per volere di altri. Non è in grado di stabilire un obiettivo su cui lavorare, specialmente se si parla del problema che gli altri le hanno detto di affrontare. Ritiene infatti di non avere un problema e di conseguenza non vede nessuna ragione per dover fare terapia. Ma allora quali sono i compiti del terapeuta quando si trova di fronte questo tipo di situazione? Barbara McFarland ne individua sei. I primi tre sono abbastanza veloci, gli altri necessitano di un approfondimento un po' più approfondito. Primo compito, ascolta e rispetta la persona. Mettiti in una posizione di ascolto e rispetta quello che dice, che detta forse con le parole di Deschazer potrebbe essere credi a quello che dice. Prendilo sul serio. Numero due, se possibile, lavora con gli altri significativi. La McFarland in questo senso ha un approccio diverso rispetto a molte altre terapie per i disturbi alimentari. Non obbliga, tra virgolette, non prevede in maniera obbligatoria l'inizio della terapia con la famiglia, con tutto il sistema, ma inizia lavorando con chi vuole terapia. Numero tre, fai complimenti per le risorse messe in campo, per quello che la persona ha fatto fino a quel momento e ricorda di sempre di lasciare la porta aperta, perché la persona potrebbe sempre tornare per quel problema o per altro. La numero quattro è un po' un insieme di queste tre. Non fare nulla, dai delle indicazioni di base e lavora con i membri presenti. Vediamo un pochino meglio. Innanzitutto chiedi alla persona se è d'accordo affinché ci siano i membri della famiglia in seduta, ma in ogni caso non prendere una posizione sul hai o non hai un disturbo alimentare. Durante la seduta quello che dovrai cercare di fare è trovare degli obiettivi che siano validi alla persona. Se non li trovi, non insistere, non andare sul devi risolvere il tuo disturbo alimentare. Ovviamente in queste situazioni non stiamo prendendo in considerazione delle situazioni di rischio, ma anche lì oltre a dare delle informazioni, se la persona non vuole stare lì con te in terapia c'è veramente poco che potresti fare. Quindi avere un atteggiamento che favorisce l'apertura di una porta attraverso la quale la persona potrà ritornare quando lo desidererà potrebbe essere effettivamente la scelta migliore. E a proposito del dare delle informazioni di base, stai attento a non avere una posizione da esperto, da io so come vanno le cose. Quindi non manipolarlo, non dare delle prescrizioni e non insistere affinché lui o lei faccia la terapia. Per esempio all'Eating Disorder Recovery Center, il centro di cui era direttrice e fondatrice la McFarland, non veniva dato altro che una brochure e delle informazioni di base alla paziente, in modo tale che il terapeuta non venisse percepito come quello che vuole insegnare come sono veramente le cose. L'aspettativa della McFarland è che a volte ritornano e quindi finché puoi lavori con i membri che vogliono essere lì. Per il resto aspetta creando una relazione di fiducia. Numero cinque, valuta se quella persona è una cliente per un altro problema. Una cliente nei tre tipi di relazione che si installano tra terapeuta e paziente nella terapia solution focus è una persona che viene per comprare, tra virgolette, qualcosa, nel senso che ha un obiettivo, che ha un problema significativo per lei. Devi identificare se la persona con disturbo alimentare possa avere questo tipo di problema o di obiettivo. È molto importante perché potrai agganciarla su qualcosa che per lei è funzionale. Di nuovo, non con l'idea di manipolarla e portarla altrove, ma con l'idea di poter stabilire una prima relazione che possa essere funzionale poi eventualmente a costruire un lavoro su il disturbo alimentare. Nei vari casi clinici portati dalla McFarland, peraltro, si vedono diverse situazioni in cui sbloccando il problema su cui la cliente vuole lavorare, che magari non ha a che vedere con disturbo alimentare, la persona successivamente o torna per l'appunto per il disturbo alimentare o quest'ultimo inizia a sbloccarsi da sé. E il lavoro successivo è un lavoro di consolidamento. E il numero sei accetta di fare una terapia intermittente. Potresti chiedere alla persona cosa dovrebbe accadere per non farti essere più in terapia e accettare che la persona inizi a lavorare con te su diverse problematiche o magari proprio sulla specifica problematica del disturbo alimentare, ma con dei prendi e lascia. Accetta il fatto che la persona verrà nei momenti di bisogno, che non sarà una terapia canonica che inizia e continua arrivando subito, linearmente alla fine. In accordo con Di Clemente, con questo tipo di pazienti, in questo tipo di stage, di stadio del cambiamento, la McFarland individua due trappole. Uno, pensare che il problema, la definizione del problema sia uguale per cliente e terapeuta, cioè pensare che quello che tu credi sia un problema e quello che tu pensi sia il funzionamento di quel problema sia lo stesso per il cliente, il che ti porta a seguire una strada anziché seguire la persona che hai di fronte. Quindi, volendo fare un po' una sintesi, quando ti trovi di fronte una persona che si trova nella fase di precontemplazione o che stabilisce con te una relazione da visitatrice, quello che devi fare è avere una posizione di ascolto, sia per stabilire una relazione che apra la porta a un ritorno successivo, sia per identificare eventualmente un obiettivo che sia significativo per lei, non con l'intenzione di manipolarla e portarla dove vuoi tu, ma con l'intenzione di creare una relazione capace di poter aprire le porte a un ritorno futuro.